Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite dell'Università di Teramo come relatore in un incontro sullo sport. Ma non è arrivato solo. Ha portato con sé la Coppa d'Argento vinta quest'estate agli europei di calcio dalla nazionale italiana. Eccola lì. Ha portata di mano il simbolo di una delle più belle vittorie conquistate dall'Italia. Una vittoria che ha fatto bene all'intero paese. Il calcio vive un progetto nuovo, un progetto importante, da tre anni a questa parte. Abbiamo parlato di rinnovamento, è nato un rinnovamento radicale. Ci sono, come in tutte le fasi evolutive all'interno dei settori economici, e il calcio è uno dei più importanti settori economici, ci sono dei momenti di grande criticità. Sia sul piano sportivo. Sappiamo benissimo che dopo aver centrato questo trofeo importantissimo, dopo 53 anni, sappiamo benissimo che il rischio di mantenere alto il livello competitivo poteva esserci. C'è stato. Abbiamo tutte le carte in regola per poter risalire in tempi rapidi e poter centrare l'obiettivo della qualificazione mondiale. Per Gabriele Gravina all'Università di Teramo è un po' come tornare a casa. Gravina è stato docente e ricercatore all'Ateneo Teramano per anni, ai tempi del magnifico Luciano Russi. Oggi a fare gli onori di casa c'è il rettore Dino Mastrocola, che in onore del calcio indossa la maglia numero 10 della Nazionale. Un calcio che in questi giorni vive momenti difficili, sia economici che giudiziari. È una grande emozione, una gioia immensa rivedere alcuni fotogrammi nella mia mente, nel mio cuore, di bellissimi momenti della mia vita vissuti qui a Teramo, all'interno di questa splendida università, ma soprattutto con l'orgoglio di aver condiviso con alcuni personaggi, alcuni protagonisti di questa università illuminati. Mi riferisco in modo particolare al Luciano Russi, con il quale abbiamo condiviso dei progetti, delle iniziative straordinarie, che ancora oggi lasciano tantissime scie di professionalità costruite all'interno di questa università che oggi operano nel mondo dello sport.